Liberatemi da qui. Dov'è Joker? All'inferno. Risposta errata. Secondo i miei calcoli ho altre nove costole da rompere. Credi che questo mi farà parlare? Dopo quel che mi hai fatto? Torturarmi, rivoltarmi contro gli uomini, derobarmi, uccidere la mia donna? È il mio bersaglio, non il tuo! Posso controllare il tuo pacemaker a distanza. Puoi vedere cosa si provi a 250 battiti al minuto? Non oseresti. Cooperate. Uccidere di paghera quanto vuoi. Fanno sopportare per il tuo. Una promessa vuota da un re decaduto. Sono al corrente di Joker. Che degenerati. Siete fatti l'uno per l'altro. Che cosa mi hai fatto? Ti ho ucciso. E fra qualche minuto il tuo corpo se ne renderà conto. Proprio così. Usa la forza. Ogni tuo sforzo anticiperà la fine. Devo scansionare la stanza per trovare il veleno di Copperhead. sudore femminile. Copere debbassata di qui. Mi serve soltanto una goccia di veleno. ecco. E' una potente neurotossina. Alfred. Invio l'analisi della neurotossina. Devi sintetizzare un antidoto. I suoi segni vitali sono fuori scala. Cosa è successo? Da... Non importa. Raggiunga solo il piano terra per procedere a un lancio aereo. Dopodiché lei deve tornare qui perché possa visitarla. Va a ritornare. al piano terra. Cosa direbbe suo padre se la vedessi adesso? Sta sperperando la fortuna della famiglia, faticosamente accumulata in queste sue frevole avventure notturne. E per cosa? Lei non è il salvatore di questa città, bensì un ue. E per di più, un ue iniziato, sprecone... Ha dimenticato che cosa rappresenta il nome della sua famiglia? Lei vide l'unico. Sì, lei vide l'unico. Aiuto! Qualcuno mi è... avresti potuto salvarmi se solo fossi arrivato prima? Che stavi facendo? Non sei un eroe? Un vero eroe mi avrebbe salvato. Mi hai lasciato morire. Quanti altri dovranno perire perché tu lo capisca? Non sei un salvatore. Sei una maledizione per la città, una piaga per tutta Gotham. Lasciaci andare! Stavamo meglio senza di te. Sarei ancora viva senza di te. Ti prego. Devi salvarmi. Ti prego. Cos'hai che non vado? Non potevi salvarmi. Perché? Perché non hai salvato? Perché non hai salvato? Non sai fare di meglio? Non ti piacerà affatto ciò che verrà troppo. La tua... La tua abilità non significano nulla. Nulla. Ti farò... Hai colpito il soldato. Vinta. Come sconfiggerai gli spettri del uomo? Cei che non ci sono Voi le vittime D'abordi! Non puoi cadernà Brava Un attrazzato! Non corriamo! I tuoi neuroni stai inumere. Resto di te. Resto di te. Pensi di salvarti con i giocatori? Non puoi necciare questa volta con i giocatori. I giocatori di giocatori. I giocatori. E' un attrazzato! Non puoi necciare questa volta. Non puoi necciare questa volta. è questo il contente 7 3 prova con vendero 4 continua lottando è quel che mi aspettavo un plattocombia il contenitore davanti lo vedo non lo vedo credi di essere guarito? il mio veleno è ancora nelle potene e lì rimarrà finchè avrai vita e non sarà a lungo credi che questo basti a trattenermi? forse no vorrei vedere io so dove si trova dove è joker? dimmi c'è un incontro tutti gli assassini saranno lì una volta liberata ti dirò dove grazie ti devo un favore aspetta posso dirti dove sono? l'hai già fatto l'hai già fatto? l'hai già fatto? gli avanti di electrocutioner devo distruggere il contenitore prima di andare devo distruggere quella bombola ti sto trasmettendo un profilo chimico fai una scansione della città e cerca le concentrazioni più elevate del composto se trovi la fonte potrò bloccarla certamente la avviserò non appena avrò trovato qualcosa non ricevo ancora il segnale di electrocutioner devo salire più in alto il pilone centrale del pioneer bridge dovrebbe andare bene tutta questa azione stanotte non so mi sembra che stiamo esaglierando Batman e da solo allora cosa vorrei chiedere che sto raguignorando? beh, non abbiamo cercato di far fuori i poliziotti solo perché ci infastidivano perdoni l'intruzione sir ma si segnalano dei disturbi nella sua zona le invio le cor- si segnalate sulla mappa può essere il caso di indagare prenderci tutti no? mettiamolo in conto come rischio pro- ci siamo ora devo seguire il senso il segnale fino alla sua posizione 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 il segnale 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 richiede richiede autentica ridizione si impegna a fondo nelle sue recite lo concedo potrebbe rivelarsi l'avversario più pericoloso che abbia mai affrontato finora hai qualcosa da dirmi? spero solo che tutto si risolva presto non passeremo la mattina a scartare regali, vero? e Grazie a tutti. Grazie a tutti. E se nessuno risponde possiamo svanicciare la casa? E se invece rispondo? Cantiamo la canzoncina e partiamo volte. Scusa, andranno farsi una sera a cantare per degli sfigati. Ok? Sei c'è travestissimo da Papo Natale? E perché mai dovremmo farlo? Papo Natale porta un grosso sacco di spalla giù. Possiamo riempirlo con l'aria furtiva senza sollevare l'aria. Con sospetto, ci crederanno diretti a una festa. Hai delle idee di me? Come on. «Compri, compri! Uno, due e tre!» «Compri, compri, compri!» Guardi, forse possiamo portare la spalla. Non credo, è troppo pesante. Ho chiesto alle ragazze di portare un altro furgone, dobbiamo solo aspettarli. Le strade sono nel caos. Ci vorranno, ormai? E' sicuro anzi che nessuno entri o esca. E' sicuro tra volata, ospiti della libertà. Non si possono fare 50 milioni senza rompere qualche uomo. Ehi, non mi la metto. Non saprei, amico. Che facciamo se Gordon non scopri. Brande, ci ha mandato qui per assicurarci che non accada. Già, e Brande l'ha detto. Che succede là dentro? Non comente bene. Maschiera nera, presa il colpo. Non c'è che sia rinforzato. Non c'è che sia rinforzato. A tutte le unità, va incaricato ogni agente. Nessun 10-10 fino a nuovo ordine. Non c'è che sia rinforzato. Non c'è, non c'è. Non c'è che sia rinforzato. Non c'è che sia rinforzato. Non ci credo. Davvero veloce. Centrale, codice 2. Affrontiamo un sospetto ignoto. Mi prendo. Sei mio. Usiamo tattiche diverse, ragazzi. Così va meglio. Processiamo questo bastardo. Qui 4-6. Niente pulizia e stampa. Li arginiamo. Bene. Continuate così finché non arrivo. Sarà fatto, tenente. Sembra arrabbiato. Devasta e distrutti. Oh, chiudiamo la faccenda. Trai da nessuna parte. Mettiamolo al tappeto. La legge della strada domina. Pazzoide. Aspetta. Cerchi sotto. Cerchi sotto. Cerchi sotto. Cerchi sotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hanno mandato un camion a tutta velocità contro un muro. E boom! Breccia aperta! Devi rintascare! Alla faccia del prelievo veloce! Scommento più da prurica di spirri. Forse sì. Ma forse sono troppo occupati. Ci siamo. Ora devo seguire il segnale fino alla sua posizione. Il segnale diventa più forte. L'incontro di Joker deve essere nella nuova Gotham. Ecco il segnale. Pare che Electro Cushioner sia dentro al Gotham Royal Hotel. Qui 4-6, niente polizia e stampa, li arginiamo. Bene, continuate così finché non arrivo. Sarà fatto, tenete. Pare che Joker abbia riservato il Royal Hotel. Ma perché la SWAT sta facendo la vigilanza? Devo capire che cosa sta succedendo. La SWAT Grazie a tutti.